Ilona Pavliuk è una soddisfazione grandissima, è la Miss Basilicata 2020, Miss Informissima. Cosa si prova a vivere questa bella emozione? Sono davvero molto emozionata, sono contentissima di aver vinto, spero che a Corato farò stessa bella figura. Vorrei trasmettere un grande messaggio a tutte le ragazze e fare da esempio a tutte quante. È stata una bellissima esperienza, sono molto contenta di aver partecipato, ringrazio di nuovo Antonio che mi ha permesso di partecipare. Sono davvero contenta e emozionata. Com'è nata questa tua passione per la moda e per il mondo dello spettacolo? Sinceramente fin da piccola mi è sempre piaciuto farmi fotografare, vestirmi in modo diverso, sfilare. Ho sempre giocato con queste cose e poi da qualche fitting, da qualche shooting è nata questa mia passione di fare la modella. Il sostegno importante della tua famiglia? I miei genitori sono stati sempre molto presenti e mi hanno sempre appoggiato nelle mie scelte. Mi hanno aiutato ad arrivare fin qui e mi aiuteranno ancora, mi sproleranno per farmi arrivare anche oltre questi traguardi. Te l'aspettavi l'emozione così? No, sinceramente non me l'aspettavo di vincere oggi perché come ho già detto ci sono state anche molte ragazze più belle di me che secondo me potevano vincere e infatti sono stata sorpresa e scioccata, non me l'aspettavo per niente. Una esperienza positiva che ti proietta nel mondo della moda, ovviamente cercando di dare il meglio di te stessa. Certo, questa esperienza mi è stata molto utile appunto per le cose che farò ora e le cose che farò in futuro. È stata una base solita per cominciare questo mio percorso nella moda. C'è una dedica particolare per questa vittoria? Voglio ringraziare, come ho già detto, tutti quanti ma soprattutto voglio sempre esprimere il meglio di me stessa e dare il meglio di me. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mille. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie.